ciao a tutti gli amici e i fan della pagina dell'ortodio oggi non mi sento per niente i dolori alle ossa sono fortissimi però non volevo far mancare un'altra puntata della rubrica cambia vita e oggi parliamo per l'appunto di frutta vi ricordate che vi avevo detto che vi sarebbe necessario un fazzoletto di terra un terreno più grande meglio è io appunto ho avuto questa fortuna di avere il terreno della mia famiglia e una grande fortuna che ho avuto è che il mio bisnonno lorenzo quasi cento anni fa ha piantato due bellissimi olivi no non questo questo ecco questo ad esempio quello che tra l'altro guardate l'oliva si sta già facendo nera quest'anno la stagione è molto in anticipo e gli alberi da frutto rispetto agli ortaggi rispetto a altre coltivazioni convengono per vari motivi intanto hanno un'enorme durata da quelli che durano di meno per esempio le pesche le pesche questa è una pesca la pesca campa 15 20 anni non è tanto ma molto più di un pomodoro di un'insalata questa è una vite la vite campa 100 anni anche di più e poi abbiamo appunto il re l'olivo questo ti campa pure 5000 anni allora gli alberi da frutta all'inizio quando sono piccolini li devi curare parecchio una volta che la pianta è cresciuta più è grande più le radici si sono allargate più è facile che ce la fa da solo gli devi dare meno cura e quindi sicuramente avere un frutteto soprattutto come investimento degli anni è una cosa più importante piuttosto che pensare all'orto o a piantare legumi o altre cose soprattutto con i cambiamenti climatici che stanno arrivando è il caso di valutare quale frutta mettere quale frutta non mettere perché ecco se uno per esempio vuole fare come cerchiamo di fare noi che cerchiamo di fare nemmeno biologico ma di usare meno prodotti possibili che siano chimici che siano biologici usare meno prodotti possibili alcuna frutta molto delicata ecco le pesche sono un po' delicate non è facile farle venire bene le noci le mandorle le nocciole che hanno la buccia sono molto sono molto più resistenti uno dei frutti più resistenti che soffre pochissimo il caldo pochissimo la secca quindi vi consiglio è il figo d'india guardate che bel figo d'india che ci abbiamo qua questo è cresciuto tutto da solo è bastato mettere una pala poi quegli anni è cresciuto da solo ad essere enorme guardate quanti ce ne ha ancora da raccogliere ce ne erano ce ne erano a centinaia ce li siamo mangiati io mio padre gli amici questi se non li raccogli da agosto che sono pronti settembre ottobre novembre dicembre durano i mesi quindi è un ottimo frutto un ottimo frutto da da tenere per mangiare in qualsiasi momento poi se uno volesse anche fa una coltivazione venderli perché no ma qui parliamo di cambiare la propria vita innanzitutto partendo dall'autoconsumo quindi il figo d'india assolutamente ve lo consiglio e come vi consiglio gli olivi come vi consiglio gli olivi per fare l'olio d'oliva l'olio già costa tantissimo stava sui 10 euro al litro da queste parti aumenterà sempre di più ma con la guerra sono aumentati gli olivi vegetali e vuoi che non aumenta anche l'olio d'oliva e sentivo proprio un esperto di economia che diceva invece di s'appressa i bitcoin investimenti strani gli nft le leve finanziarie perché non vi comprate un oliveto che li regalano quasi al giorno d'oggi ci sono tanti oliveti abbandonati e sarà un ottimo investimento per il futuro effettivamente se mio nonno faceva una casa con la piscina si mo mettavo a far il bagno con la piscina ma non c'avevo l'olio d'oliva invece tutti gli anni che posso far il bagno nell'olio d'oliva per quanto ne facciamo abbiamo più di 200 piante e facciamo anche tanto vino con tutte queste viti abbiamo vari tipi di frutta io qualche anno fa ho provato a mettere i kiwi pensando che fossero un frutto tropicale invece purtroppo anche il kiwi soffre il caldo la secca e ha bisogno dei parecchie cure specialmente da piccolino quindi non so se consigliarvelo però una cosa che vi consiglio assolutamente è il fico vedete questo bellissimo fico questo adesso non ce li ha più i fichi però ci ha dato tanti fichi a luglio e tantissimi a settembre praticamente potevo venire a fare qui colazione invece di far colazione coi biscotti del supermercato a luglio a settembre si può fare colazione coi fichi che sono buonissimi e anche questa è una pianta come il fico d'india che non gli devi dare praticamente niente io penso che al massimo il mio padre forse gli da l'acqua ramata ma non credo l'acqua ramata la diamo alle olive la diamo alle viti no praticamente diamo solo acqua ramata col tiglia bordolese per esempio le mele se volete provare a farle fatele ma quelle che hanno bisogno di freddo e ci hanno bisogno di tanti prodotti noi non riusciamo ad avere tante mele buone la maggior parte vengono mangiate dagli insetti e da dagli uccelli quindi non è una cosa semplice però scegliendo la frutta giusta negli anni ci si può creare un frutteto che fornisce in tutti in tutte le stagioni certo da noi in inverno c'è poca roba però comunque i kiwi melograni arrivano fino a tardi novembre dicembre dicembre gennaio comunque ci stanno gli agrumi i limoni gli aranci mandarini e poi si ricomincia presto in primavera con tutta la frutta quindi mettendo vari tipi di alberi si può si può avere frutta in quantità in vari in vari momenti dell'anno noi qui ad esempio abbiamo anche un nocciolo vicino al figo d'india vedete questo è un nocciolo tutto il frutteto grande ce l'abbiamo in fondo al terreno comunque ci sono pesche albicocche prugne mele pere ciliegie amarene mandorle noce nocciole ve l'avevo detto si possono provare a mettere tanti tipi di frutta poi anche a seconda di gusti personali e appunto fate attenzione sempre al clima e al tipo di terreno che avete a seconda di dove abitate in sud italia nord italia fuori dall'italia però una volta che ci avete questo terreno prima di pensare alle piante stagionali alle piante che si raccolgono dopo breve tempo pensate a lungo termine pensate a alberi che una volta che vengono fatti crescere e vengono portati guardate vi faccio vedere questo piccolo figo alberi dicevo insomma che vi daranno frutti per anni questa mela è morta però vedete è rigermogliata la faremo crescere vedremo dove andrà questo figo quel figo lì giù comincia a diventare grande chissà se diventerà grande come quell'altro come il fratellone lì che ne fa setti di figli ecco un figo del genere con non è che bisogna averne tanti con un solo figo del genere guardate quanto è grosso a luglio a settembre ogni giorno fai un secchio di fichi cioè che vuoi di più certo magari le pesche ne metti di più perché sono piccole però per esempio abbiamo delle albicocche le annate buone anche quelle sono cariche di albicocche puoi ogni giorno andare a fare i secchi nel periodo che ti danno i frutti quindi la cosa migliore è avere tanta frutta diversa che è pronta in vari periodi diversi e mio padre consiglia di usare tutte specie primutiche dice lui tutte specie che escono per prime perché generalmente le specie che ci mettono più tempo a maturare stando più tempo sull'albero è più facile che vengono poi attaccati dagli insetti dalle malattie mentre le specie più veloci che il frutto è pronto prima devi dargli meno prodotti o se sei fortunato nessun prodotto e questa mi sembra una cosa abbastanza intelligente quindi se ad esempio le pesche cominciano a essere pronte da maggio poi ci sono anche varietà che soppronta agosto a settembre però tendenzialmente noi quelle non ce l'abbiamo abbiamo quelle di maggio giugno e basta poi luglio agosto si passa ad altra frutta e niente vi vi sto portando a fare vedere il frutteto piano piano scusate che cammino piano ma oggi c'ho dei dolori terribili oggi è tanto che riesco a stare in piedi poi questo nostro terreno non è non è in piano c'ha delle parti molto ripide come quella dove sto adesso quindi bisogna andare piano però non è che l'ho comprato è il terreno della mia famiglia come si dice a cavaldonato non si guarda in bocca anche perché anche se guardiamo in bocca a questo cavaldonato guardate quanti belli olivi che mi ha piantato il mio bisnonno non mi posso proprio lamentare poi mia nonna e poi mio padre che li hanno curati e li hanno fatti crescere non mi posso proprio lamentare ecco già solo con tutte le olive e tutte le viti una gran produzione di olio e di vino che uno ce l'ha per sé e volendolo potrebbe dare agli amici ai parenti o vendere però abbiamo anche questo piccolo frutteto oltre alle solide viti vedete vi faccio vedere qualcosa di diverso questa è una pesca sarà una bella pesca cresciuta ce l'avrà almeno cinque sei anni qui ci abbiamo due piccole amarene queste sono due piccole amarene quelle tre a vederle da lontano mi sembrano altre pesche lì giù c'è un mandorlo e ci sono un sacco di pesche perché mio padre ama le pesche eh sì vedete anche questa è un'altra pesca questa che è una ciliegia una marena un albicocco mamma mia che ignorante che sono questo è una marena altra pesca altra pesca altra pesca si vi avevo detto che vi portavo in un frutteto in realtà vi ho portato in un pescheto perché non trovo più l'albicocca e le prugne e il resto trovo solo pesche però vedete insomma guardate queste che belle foglie verdi che c'ha io per esempio non andrei troppo avanti con la coltivazione delle pesche perché la vedo problematica per tanti punti di vista però mio padre è stan fissa gli piacciono c'ha ragione e quindi anche voi vi potrete scegliere il vostro frutto preferito io per esempio preferisco le albicocche muove porta avete un'albicocca carina un'albicocca carina qui abbiamo il boschetto ricordatevi se è possibile di tenervi sempre un pezzo di bosco poi in qualche altro video vi spiego perché però prima di salutarvi vi faccio vedere qualche altra frutta che non sia la pesca sennò poi sembra che all'orto addio ci sono solo pesche ecco lei è una ciliegia per esempio questa è una ciliegia che ovviamente le ciliegie se ce l'aveva ce l'aveva mesi fa guardate questo olivo quanto è bello quanto è maestoso e c'è pure tantissimo oliva da raccogliere quest'anno ne facciamo di olio meno male ecco un albicocco il frutto preferito mio per ora è l'albicocca poi piantandone altri vedremo magari cambierò gusti il tuo frutto preferito qual è? qualsiasi sia comincia a piantare alberi da frutto questo è un ottimo investimento per il futuro detto questo per oggi ti saluto ciao dallo sciamano dell'orto dio e dall'albicocca dell'orto dio